E' proprio così, l'eroe della serata, direi giusta questa definizione di Andrea Costantini, delle Monache Show, due gol, una grande prestazione, soprattutto il secondo gol ha evitato quella che poteva essere una sconfitta per voi, Marco. Sì, sono molto felice, però ora dobbiamo pensare che lunedì abbiamo un'altra partita e dobbiamo essere convinti e dobbiamo vincere per forza. Ecco, dopo l'1-0 avete avuto delle occasioni per il raddoppio, peccato non essere riusciti a trovare il gol del 2-0 perché poi c'è stato il ritorno della Virtus Verona. Sì, dobbiamo essere più concreti, ma sono sicuro che faremo bene e faremo altri gol. A chi dedichi questa doppietta, Marco? A mio fratello più piccolino, Lorenzo, e vabbè a mio nonno e alla mia ragazza. Vogliamo un attimo raccontarvi questi due gol diversi, quelli del primo tempo, grande azione personale. Nella ripresa c'è stata la grande collaborazione di Lescano e Merola. Sì, manco mi ricordo per quanto sono emozionato, però sì, è stato un bel gol. È stato bello soprattutto dopo l'1-0 andare a risultare sotto la curva dei tifosi pescaresi che vi hanno dato una grande mano questa sera. Sì, sì, sono stati molto importanti per noi perché ci hanno caricato dall'inizio del riscaldamento e quindi noi dobbiamo ripagare con la stessa moneta lunedì. Tornando al primo gol, dice Andrea Costantini da studio giustamente che hai fatto fuori tre difensori in rapidissima successione. Una grandissima giocata da parte tua. Sì, mi sono trovato lì e ho detto che devo fare tutto per prepararmi a calciare e ce l'ho fatta. Ecco, questa sera cosa ti ha dato Zeman? Marco, oltre alla fiducia, perché stai giocando ormai da diverso tempo da titolare in attacco, insomma questo allenatore cosa ha fatto per farti tornare davvero a grandi livelli e soprattutto anche bomber? Mi hanno dato insegnamenti molto importanti di cui attaccare la porta, attaccare la profondità, stare sempre nell'area e quindi io l'ho ascoltato e meno male. Adesso Marco Dellemona che è un titolare del Pescara? Non lo so, le scelte sono sempre del mister. Io mi impegnero sempre al massimo. Marco, tutto verrà deciso a questo punto dopo questo 2-2 nella gara di ritorno, però non so se siete d'accordo con me, questa Virtus Verona ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Vi ha messo anche in difficoltà in alcune fasi della partita? Sì, è vero, ma noi pensiamo a noi e cercheremo di sconfiggerli. A ritorno sarà importante l'apporto del pubblico, dei tifosi del Pescara. Questa sera si è visto un primo assaggio, vi aspettate di vedere tanti tifosi all'Adriato? Certo, speriamo che sono il più possibili.